Dress code rigorosamente in bianco, lunghissime tavolate di una comunità che ogni estate si ritrova sul porto di Biceglie, tanta musica, divertimento e convivialità. E questa è la ricetta di Biceglie in Blanc, l'evento organizzato dall'associazione Pro Artibus di Molfetta, che come ogni anno si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate bicegliese, circa 1200 i commensali presenti sul waterfront di Biceglie. Biceglie è la location perfetta per fare questo genere di eventi e anche quest'anno è stato un successo, un successo di pubblico, come ogni anno è sold out a Biceglie perché Biceglie funziona. Abbiamo sempre pensato alla solidarietà, quest'anno la solidarietà è a favore di Ant per un progetto con una donazione di 3000 euro che faremo stasera durante la serata. Noi siamo certi, e lo sappiamo anche dal punto di vista numerico, che questa serata porta un indotto economico importante sia per il settore food, che è chiaro ed evidente, ma anche per il settore no food. Oggi c'erano tanti ragazzi che stanno lavorando, ma ci sono anche tanti designer, tanti fiorai, tanti abiti bianchi che sono stati comprati. Non solo spettacolo, convivialità e divertimento, ma anche solidarietà e supporto al commercio locale. Intorno a Biceglie in Blanc, tanti infatti commercianti e gli artigiani coinvolti, per un evento il cui ricavato verrà usato per finanziare le attività solidari dell'Ant. Quest'anno per fortuna hanno pensato a noi dell'Ant, perché è chiaro che abbiamo sempre bisogno di molto aiuto. Abbiamo bisogno di essere aiutati per poter aiutare. Grazie